Vemerdì 27 novembre, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa prima dei quotidiani, l'ultimo aggiornamento sul coronavirus, l'ultimo bollettino dell'ASREM, ancora un bollettino di guerra con altri 6 decessi, 2 degenti trasferiti in terapia intensiva, 5 nuovi ricoveri, 10 dimessi, 80 nuovi positivi, ma per fortuna ci sono anche 100 guariti, comunque tutti i particolari del servizio. Altri 6 decessi, 2 pazienti trasferiti in terapia intensiva, 5 nuovi ricoveri, 10 dimessi, 80 nuovi positivi e 100 guariti, sono i numeri dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale, ma andiamo con ordine. Iniziamo dalle persone decedute, una 94enne di Campobasso, un 80enne di Isernia, un 97enne di Vinchiaturo, un 85enne di Campobasso, tutti erano ricoverati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, poi un 89enne di Campobasso, ospite della casa di riposo di Boiano e una 90enne di Cerce Piccola, ospite della casa di riposo di Vinchiaturo. I 5 nuovi ricoverati malattie infettive sono di Boiano, Busso, Agnone, Termoli e Larino. In terapia intensiva trasportati un paziente di Termoli e uno di Caporizzoto. Nel reparto Covid attualmente ci sono 73 degenti, 62 in malattie infettive, 10 dimessi nelle scorse ore, 11 in rianimazione, 80 nuovi positivi, 18 a Campobasso, 12 a Isernia, 8 a Trivento, 7 a Civitanova del Sagno, 6 a Cerce Maggiore, 3 ad Acquaviva di Isernia e Ferrazzano, 2 a Baranello, San Giacomo degli Schiavoni, Sepino e Venafro. Contagi anche a Vinchiaturo, Termoli, San Felice del Molise, Rocca Sicura, Riccia, Poggio Sannita, Tappetto, Ranello del Molise, Montorio, Nefrentani, Montagano, Monacilioni, Matrice, Gildone, Coglio al Voltorno, Castropignano e Castel del Giudice, 862 i tamponi processati nelle ultime ore, 82.288 dall'inizio della pandemia, 2.677 gli attualmente positivi, 3.065 i soggetti in isolamento. Pazienti trasferiti nottetempo dalla RSA di Larino, del Vietri di Larino, al Santissimo Rosario di Venafro. Il sindaco di Larino, Pino Puchetti, va in procura e attacca Florenzano e Giorgetta. Sentite i particolari. Ci hanno avvisato mentre le ambulanze stavano partendo, riferisce uno dei familiari dei nove pazienti della RSA del Vietri di Larino, che nottetempo sono stati trasferiti al Santissimo Rosario di Venafro, dove nelle scorse ore era stato portato un altro paziente positivo, paucisintomatico. Nessuno si è preso la briga di avvisare il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, che, saputa la notizia da alcuni cittadini, si è recato dai carabinieri e ha presentato un esposto in procura. Nel silenzio generale dell'ASREM, del suo DG Florenzano e del direttore del distretto sanitario Giorgetta, attacca Pino Puchetti. I degenti risultati positivi sono stati trasferiti. Le persone trasferite, sembrerebbe otto donne e un uomo, sono anziane, prosegue Puchetti, novantenni positive al Covid-19 e con patologie pregresse, alcune con gravi problemi di deambulazione. Il sindaco resta basito della scelta operata, che definisce incomprensibile e non riesce a comprendere come si sia potuto pensare di trasferirli in altra struttura a 150 chilometri di distanza, mettendo a rischio, dice, la loro salute. Aggiunge poi che tale trasferimento è inconcepibile se si tiene conto del fatto che la metà dell'ospedale Vietri non viene utilizzata, nonostante la disponibilità di posti letto dotati di predisposizione per apparecchi elettromedicali e ossigenoterapia. Puchetti infine afferma che sarebbero almeno tre i soggetti risultati positivi nella RSA di Larino, due anziane donne novantenni ed un'operatrice sanitaria e, conclude, non sarebbero i soli. Ed ora i quotidiani locali Primo Piano Molise, l'apertura sul virus, 6 vittime e 80 nuovi positivi ma pure 100 guariti. Questo è il titolo di apertura di Primo Piano Molise, 4 decessi al Cardarelli, uno nella casa di riposo di Boiano e uno in quella di Vinchiaturo, due ricoveri in terapia intensiva, 5 malattie infettive e 10 dimessi processati, 862 tamponi. E a Isernia scoppia il caso, parroco rifiuta il funerale a una donna morta di Covid, ho paura del contagio. In taglio centrale, Primo Piano racconta questa storia, Tonino Pettorano, il meccanico amico di tutti, ucciso dal coronavirus, aveva la sua attività in via 24 maggio a Isernia, lo conoscevano davvero tutti. L'atroce racconto di moglie e figlia, chiamate qualcuno, implorava dall'ospedale, la sua disperazione ci tormenta, dicono la moglie e la figlia, all'interno il pezzo di Rita Iacobucci. Poi il monitoraggio, oggi Speranza decide i colori, Molise giallo, Toma fiducioso. La petizione, Vietri, centro Covid affidato a emergency di Gino Strade. Poi Campobasso, drive-thru a regime, 120 test al giorno, parla il vertice dell'arma. Dentro la notizia, tentata concussione, chiesto il giudizio per Sbrocca, un ex assessore e due funzionari comunali. In Alto Molise, via Dottosente, firmata la convenzione tra Anas e provincia per la progettazione. A Campobasso, due minorenni rubano un'auto, forzano un posto di blocco e fugono a piedi, presi dalla polizia. Di spalla c'è il punto del direttore Luca Colella, per le cure di qualità servono fondi non commissari. In taglio alto, sotto la testata, il riconoscimento isolò il genoma del SARS-CoV-2. Francesca Colavita, ambasciatrice dei molisani nel mondo, attestati anche a chi si è distinto nella lotta al virus. E poi Santissimo Rosario, arrivati notte e tempo, abbiamo visto il servizio, nove anziani da Larino a Venafro. Allarme del comitato, manca personale, il sindaco Bucchetti va in procura, io all'oscuro di tutto. Infine lo sport in taglio basso con Fabriani del Campobasso, che parla della sua maglia numero due. Ho grande rispetto per il capitano Scorrano, è un numero pesante questo del Campobasso. Agnone, mister Senigayesi, elogia i Granata, ora siamo una squadra. Infine Sibilia, la Serie D potrebbe andare anche oltre il 30 giugno. I quotidiani nazionali, iniziamo da il Messaggero di Roma. Scuole si riapre dopo la Befana, le aperture dei maggiori quotidiani nazionali non sono univoche. Questa mattina, regioni e sindaci contro il piano dell'Azzolina. L'esecutivo cede, chiusure fino al 7 gennaio. La messa di mezzanotte è un caso. Boccia, Gesù può nascere prima. Terapie intensive in calo. E poi in taglio centrale, pazzi d'amore. Argentina scontri alla Camera Ardente per Maradona. Corteo improvvisato per il funerale Lampo. Il Messaggero propone le interviste a Platini, a Mancini e a Carrà. È finito in cella per me. La forza del PIBE, il Masaniello, che non ha tradito l'approfondimento di Mario Aiello. Il Corriere della Sera. Scuola e sci stop fino a gennaio. Questo è dunque il titolo di apertura del Corriere. Vietato anche spostarsi tra le regioni. Scontro Speranza Fontana sulle restrizioni. Il vaccino di AstraZeneca diventa un caso. Si faranno altri test. Gli USA minacciano di non concedere il via libera. E intanto studenti in Piazza Castello a Torino protestano contro la didattica a distanza. E poi l'inchiesta sanità perché in crisi il modello Lombardo. La politica. La tela di Berlusconi. Ieri la votazione sullo scostamento quasi all'unanimità. Ebbene la tela di Berlusconi. Il centrodestra unito vota sì sul bilancio. In taglio centrale Corri, resse e incidenti per l'addio a Maradona. Disordini in Argentina. Spostato il feretro. L'omaggio di Napoli. E poi il patrimonio è già battaglia per l'eredità. La Repubblica. L'apertura a Conte. L'aiuto della destra. Un'apertura politica. Come vi dicevo le aperture non sono univoche quest'oggi sui maggiori quotidiani nazionali. Berlusconi costringe Salvini e Meloni a votare lo scostamento di bilancio. Zingaretti no al governissimo recovery. Timori del ministro francese Lemaire sui ritardi italiani. Il tesoro. Il piano è a Palazzo. Chigi Natale. Si tratta con la CEI per anticipare le messe sci e licei a gennaio. L'editoriale di Maurizio Molinari. La nuova Europa non ci può aspettare. Invece Stefano Folli cambia la scena. Nulla è come prima. In taglio centrale perché Maradona è stato il più grande. In Argentina folla enorme e scontri alla camera ardente. Buenos Aires e Napoli il gemellaggio del dolore. Poi l'omaggio di Michel Platini. Nessuno come lui negli occhi di ogni gioventù. Il fatto quotidiano. L'apertura è sulle regioni. Piste di sci aperte e scuole chiuse. Le priorità. I presidenti e il PD contro Conte e Azzolina. Verso il giallo. Recovery. RTG. Altri 822 morti. Il governo. Zone rosse via. Però misure rinforzate per congelare la cura del virus. Dunque questa la ricetta del governo. Il sole 24 ore. Il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria. L'attesa del super bonus. Frena l'edilizia. Questa l'apertura nel 2020 calano del 14%. Gli investimenti incentivati con gli sconti fiscali. Pesano l'effetto Covid e le aspettative nei confronti dell'agevolazione del 110%. E poi i versamenti fiscali. La proroga al 30 aprile arriverà all'ultima ora. Decreto Ristori. Il DL sabato o domenica. Il centrodestra vota lo scostamento di bilancio. Le scadenze sono fissate per lunedì. E come leggevamo. Sabato o domenica. Il nuovo DL. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. E con il mondo che piange. Maradona 10 per sempre. Questa è la prima della Gazzetta dello Sport. A Buenos Aires resse e scontri per l'addio a Diego. Lacrime a Napoli. La squadra in campo con la sua maglia. Vola in Europa e gli dedica il 2-0 contro il Reica. Velasco scrive per noi. Quella mano ci riscattò. Poi magro, atletico, grasso, malato. Un corpo tormentato. Parla pure Ottavio Bianchi che lo ha allenato. E con lui ha vinto lo scudetto. Era Mozart. Ma dovevamo dirgli più no. E poi anche senza Ibra è un Milan che vale. Parliamo ovviamente di Europa League. A Lille pari d'oro. 1-1 verso la qualificazione. Roma 2-0 a Cluj. È già ai sedicesimi. Segna Castiglieco. Poi i francesi riescono a rimontare. C'è anche l'Inter sulla prima della Rosa. Conte si è perso. Non mangio il panettone se non lo meriterò. Tra svolte da trovare e battute. C'è dunque il caso Conte. Bene, è davvero tutto. Prima dei saluti diamo uno sguardo al palinzesto. Cosa troverete oggi? Alle 11 c'è la replica di Molise Sport. La trasmissione condotta da Franco Presutti. In onda ieri sera alle 21. E in replica oggi alle 11 e alle 16. Poi viva la musica con Gigione. Alle 14 l'informazione con me. Alle 17.30 Paese mio. Alle 19.30 il telegiornale con Valentina Ciarlante. Alle 21 in diretta. Conto alla rovescia con i big della politica. Ospiti di Pasquale Damiani. Il governatore Donato Toma. L'ex presidente Michele Iorio. E l'euro parlamentare Aldo Patriciello. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.